Mi raccomando continuate a supportare questa serie con un bel mi piace, iscrivete al canale e attivate la campanellina, mi raccomando. Si sono disputati i quarti di finale dei playoff di serie B e questi sono i risultati fuori il Monza addirittura e fuori la SPAL contro il Chievo Verona e la Cremonese appunto abbattuto il Monza, quindi in semifinale noi affronteremo la Cremonese e dall'altra parte ci saranno Chievo Verona e Empoli. Saranno partite andata e ritorno per le semifinali e ovviamente anche per la finale ci sarà andata e ritorno, quindi saranno come ho detto prima quattro partite teoricamente se facciamo tutto bene. La formazione è pronta, siamo pronti anche noi per andarci a giocare quest'andata della semifinale dei playoff, saremo fuori casa contro la Cremonese, dovremo cercare quindi di segnare per i gol fuori casa, andiamoci a giocare questa partita. Ed eccoci qua per Cremonese Venezia, andata della semifinale dei playoff, la mod ha un po' di problemi lì con la scritta ma non è un problema per noi, partita importantissima questa per noi ovviamente per quanto riguarda l'accesso alla Serie A, l'abbiamo mancato per un gol contro il Lebrecia, ora quindi ci mancheranno tante partite ancora da giocare. Avremo la Cremonese, all'altra parte Empoli e Chiavo Verona, siamo pronti per giocarci questa partita, fuori caso dovremo cercare di segnare il più possibile, forza forza Venezia. Ricci, subito per Ramirez, c'è Tales Magno, uh c'è un buco da questa parte, Tales Magno mette il turbo, Tales Magno con il mancino, palla fuori mamma mia. Valeri sulla sinistra, lo affronta sempre Rakovic che esce molto alto sui difensori, sui centrocampisti, anzi avversari, ripartiamo. Jonsen, vede subito Tales Magno lungo sulla fascia, c'è anche Ramirez da questa parte, proviamo a servirlo, Jonsen, bravissimo Jonsen con il mancino, la parata, la palla ancora lì, calcio d'angolo. Jonsen verso Mazzocchi, largo sulla fascia, torna dietro verso Ramirez che prova a saltare tutti, ah, Romagna, prova ad anticipare, ci arriva, bravissimo il nostro difensore, ripartiamo con Fjordilino. Uh, dall'altra parte c'è Radulovic, un po' sbilanciata la difesa della Cremonese, siamo 3 contro 4, Radulovic sempre in velocità sulla sinistra, ancora palla fuori. Stiamo attenti alla Cremonese, tocco di tacco addirittura, uh, palo, incredibile, si salva Mirante, ci salviamo pure noi, ma c'è ancora la Cremonese che in realtà sta mettendo il turbo solo in questi ultimi minuti. Attenzione il tiro, paratona di Mirante, era posizione regolare, invece no, era fuori gioco, infatti mi sembrava un po' oltre. Romagna subito per Udoghi, Udoghi per Fjordilino, bella questa manovra da parte nostra, Ricci per Talesmagno, allarga subito per Jonsen, c'è anche Talesmagno lì in agguato, il tocco dietro, Talesmagno, il pallone è ancora lì e riusciamo a trovare il gol dello 0-1. Sono un po' fortunati, ma per la mole di gioco creata, questo è un gol che ci meritiamo tutto quanto, forse ci meritiamo anche qualcosina di più, però troviamo il gol dello 0-1, gol, ripeto, importante per la differenza reti, per il gol fuori casa, per tutto quanto, e buon gol alla fine del primo tempo. Jonsen largo sulla fascia, c'è Talesmagno, ce l'ha sul destro il piazzato, una parata incredibile di Alfonso che secondo me l'ha tolta, non dico dall'incrocio, ma Talesmagno da fuori area, da fermo, l'ha piazzata molto bene, sembrava un po' meglio. Sta cominciando a spingerla Cremonese, palla per loro recuperata, quindi ripartiamo, forse saranno un po' sbilanciati, c'è Talesmagno lungo il pallone per lui, lo può tenere, Talesmagno vede dentro Ramirez che non può sbagliare, con il destro davanti al portiere, non sbaglia. Il 67esimo segna il numero 8, altro gol importante per lui, 2-0, fuori casa, gol importante che ci fa stare molto più tranquilli, ovviamente se arriva anche un terzo benvenga, più gol facciamo fuori casa meglio è, ma bel gol di Eric Ramirez, partita finora in controllo. Mazzocchi non si fa scavalcare, bravissimo, c'è Jonsen per Ramirez, Ramirez ce l'ha sul mancino, prova il tiro, paratona di Alfonso, Cremonese in possesso, palla Nardi per Selar, l'ex Roma largo sulla fascia, la parata di Mirante, ancora una paratona di Mirante che sta facendo una seconda parte di stagione con noi, incredibile. Selar largo sulla fascia, non è la sua posizione, mette un cross dentro, c'è Rakovic, palla per Fiordilino, vediamo di chiudere questa partita, largo c'è Unuvar, trova una finta, Unuvar, attenzione Sebastiano Esposito per Ramirez, Ramirez la porta sul destro, sbaglia qualcosa, il pallone ancora lì per Esposito, la parata di Alfonso, prova a ripartire la Cremonese, ma forse non ci sarà più tempo, infatti l'arbitro fischia qui, finisce la partita, 0-2, fuori casa, quindi due gol fuori casa, importantissima, arriva una vittoria nella partita d'andata della semifinale, ora ci giocheremo il ritorno al Pierluigi, penso, però ottimo risultato, potevamo fare anche un golletto in più, però va bene così. E dopo le gare d'andata, questi sono i risultati, noi siamo in vantaggio contro la Cremonese per 2-0, mentre l'Empoli è sotto col Chievo Verona per 2-1, importante per noi anche per capire chi affronteremo in finale, diciamo che sono due squadre comunque molto ostiche, mentre la Cremonese devo dire che non ci ha messo in grossa difficoltà, io ho fatto la formazione e pensavo questa partita, visto che comunque abbiamo anche altre due partite per non appesantirci troppo, direi di simulare, ovviamente la simulazione è quella normale, non quella veloce, così vediamo che cosa facciamo durante la partita, se siamo in difficoltà, magari subiamo un gollo, vediamo che potrebbe essere un po' un risultato in bilico, entriamo a partita in corso. Abbiamo fatto, come ho detto, un po' di turnover, andiamo a simulare questa partita e vediamo che cosa succede contro la Cremonese. Arriva il gol al 27esimo di Esposito, che sta giocando titolare molto bene, arriva anche un altro gol, segna Ramu al 45esimo, gol anche per il nostro numero 10. Arriva il gol del 2-1, a sorpresa Gustafsson al 77esimo, gol che però non porta a niente, ovviamente loro dovrebbero segnare altri tre gol, mi sembra abbastanza improbabile, soprattutto per il tempo che è rimasto, diciamo. E finisce questa partita l'arbitro fischia, 2-1 nella gara di ritorno, quindi in totale un 4-1, bello pieno, bello importante, questa partita è stata un po' più combattuta a quanto pare, però ci siamo portati a casa il risultato, che è quello che conta. E quindi sì, siamo in finale e dall'altra parte c'è stato 1-0-0 nella gara di ritorno, quindi affronteremo in finale il Chievo-Verona. Quindi dai, siamo pronti per andarci a giocare questa partita, Venezia-Chievo-Verona, saremo in casa al Pierluigi Penso per questi primi 90 minuti, la formazione è quella titolarissima, andiamoci a giocare questa partita, forza Venezia! Pierluigi Penso tutto gremito perché qua non esiste appunto questo famosissimo Sessurivo. Siamo contro il Chievo-Verona, gara di andata, speriamo di poter rivedere in realtà questi stadi pieni, però qui su FIFA godiamoceli, Venezia-Chievo-Verona, dovremo cercare di non subire gol o subire meno gol possibili e vincere ovviamente la partita. Andiamoci a giocare questa partita, sempre, sempre, forza Venezia! Fabbro il numero 9 del Chievo-Verona, sale il mancino, Mirante, mamma, sono partiti forti, sono concentrato con la Mirante, sono partiti fortissimo, non dovevano subir gol, quindi sono bello concentrato, visto che hanno dei gran bei giocatori. Palla alta, esce Romagna senza commettere fallo, ma il pallone è ancora per loro, c'è Fabbro il numero 9, Rakovic bravissimo a recuperare, Ramirez subito verso Tales Magno che si deve girare, deve far vedere il giocatore che è largo per Radulovic, attenzione c'è dentro Tales Magno, il pallone è ancora lì, spazzano, Radulovic si accentra, bello il pallone per Ramirez, c'è un po' di spazio da questa parte, c'è Ricci che può provare con il destro, palla alta, brutto tiro da parte di Samuele, doveva fare sicuramente meglio. Zuelli, palla per Palmiero, stiamo attenti in uscita, bravissimi i nostri Romagna e Rakovic, ripartiamo. Ricci per Romagna che allarga il gioco verso Radulovic, Radulovic con calma, verso Ramirez, su, c'è l'inserimento di Ricci, sempre lui, Ricci di tacco, bene per Ramirez, bella questa azione, ma la palla finisce fuori. Era una bella azione, potrebbe essere anche un bel gol, ha tirato bene qua Ramirez, è bravo anche Ricci. Uh, bel pallone recuperato, Tales Magno in posizione regolare, Tales Magno, Tales Magno, tiene lì il pallone, Tales Magno di tacco per Radulovic, ancora lui, Tales Magno, si deve girare, chiudono troppo bene i loro difensori. C'è ancora Ramirez, pallone dentro, per Jonse, non riesce a tirare, eh, non ci sono spazi ragazzi. Ripartenza per il Chiavo Verona, c'è Pucciarelli, Romagna in scivolata, commette però fallo, era un po' in ritardo, vediamo che cartellino sarà, penso un cartellino giallo, rosso sarebbe troppo, infatti cartellino giallo, un po' pesante anche per la gara di ritorno, però insomma, va bene, ripartiamo. Mazzocchi, subito per Ramirez, attenzione che sono un po' sbilanciati, Ramirez è veloce, e può superare Zuelli, uh, dall'altra parte c'è pure Radulovic, il cross però è per Jonsen, che però viene anticipato dal numero 3, sempre Fjordilino, dalla bandierina, uh, per Tales Magno, il pallone è ancora lì, Rakovic, c'è Romagna, ancora lì il pallone, Rakovic, per Ramirez può provare il piazzato. Che voverona, in uscita Jonsen, viene saltato, Romagna senza commettere fallo, ripartiamo con Jonsen per Mazzocchi, che ha spazio davanti a lui, può salire Mazzocchi per Tales Magno, Tales Magno per Ramirez, Fjordilino, guardate come stanno chiusi, ma qua c'è un buco per Radulovic, che è in posizione regolare, Radulovic non può sbagliare, con il mancino volevo tirare con il destro, mannaggia. Che voverona con il pallone, attenzione dentro, arriva il gol al 79esimo, stava girando nell'aria, arriva il gol di De Luca, il numero 98, gol dello 0-1, gol fuori casa, pesante, pesantissimo, partita equilibrata, ma loro in attacco hanno tanta qualità e qua ci hanno trovato un po' impreparati, abbiamo fatto due cambi in difesa, è entrato male Modulo, niente, 1-0, gol sul primo palo, segna Manuel De Luca, sarà sicuramente no, il secondo gol in questo playoff, ok, 0-1, gol pesante perché è fuori casa per loro, recuperiamo il pallone, mancano due minuti più recupero, saliamo con Ramirez, palla per Tales Magno in qualche modo, vai Ramirez, fatti vedere, palla per lui, vai Ramirez con il mancino, 1-1, la coppia brasiliana, il numero 8 segna, il numero 9 fa l'assist, il numero 8 fa l'assist, il numero 9 segna, gol, Ramirez e Tales Magno, una coppia straordinaria, i due brasiliani ci portano il gol dell'1-1, un contropiede micidiale alla fine di questa partita, 1-1 che poi ci porterà sulla gara di ritorno ad avere comunque delle pressioni, però è un gol che pesa come un macigno, un altro gol di Ramirez in questo finale di stagione, si sta rivelando il giocatore più importante finora di questo finale di stagione, 1-1 in casa, i tifosi esplodono di gioia, ora però, ripeto, avremo una gara di ritorno pesantissima, teniamo questo risultato e cerchiamo poi i secondi 90 minuti di fare qualcosa di storico, manca ormai pochissimo, forse non ci sarà neanche più il tempo per un'ultima azione, noi comunque ci proviamo con Tales Magno che è stremato, vede Ramirez, lo serve, fa scorrere, Ramirez! Ne è stanco anche lui, sono tutti stanchi, ci sarà un'ultima occasione, un ultimo calcio d'angolo, Fiordilino dalla bandierina, la mette dove c'è Tales Magno, ancora deviazione, vediamo se ci sarà un altro calcio d'angolo, c'è un altro calcio d'angolo, Fiordilino sempre dalla bandierina, sempre verso Tales Magno, il pallone è ancora lì, lo spazzano, ma penso che l'arbitro fischierà, infatti sì, 5 minuti di recupero ci ha dato, finisce questa gara di andata della finale dei playoff, 1-1 contro il Chievo Verona, ci giocheremo tutto allo stadio del Chievo Verona e sarà una partita difficilissima, come è stata questa. Dopo la gara di andata siamo pronti anche per la gara di ritorno, domenica 13 giugno 2021, potrebbe essere la data storica veramente di questo Venezia, che si sta giocando comunque, va da una stagione incredibile, però ovviamente con l'1-1 ancora è tutto aperto, tutto aperto con qualsiasi risultato, adesso dobbiamo segnare almeno un gol ovviamente, e poi dobbiamo segnare più gol possibili, ma l'importante è vincere la partita. Saremo al Bente Godi di Verona, andiamoci a giocare questa partita, forza Venezia! È tutto pronto al Bente Godi di Verona, che non si è mai visto così pieno, ma l'importante comunque è che c'è l'atmosfera. Chievo Verona-Venezia, siamo contro una squadra che ha dimostrato nella gara di andata di voler la Serie A, di avere i giocatori per poter andare in Serie A, per poter tornare in Serie A. Nella gara di andata c'è stato un 1-1 con il gol fuori casa da parte loro, ora siamo noi fuori casa, quindi siamo pronti, andiamo a giocare questa partita, forza, forza Venezia! Ultimi 90 minuti, speriamo, della nostra Serie B. Attenzione partono subito forte con De Luca, l'autore del gol del 1-0 della gara di andata, bell'anticipo, ma mica si sono partiti forti, come la gara di andata, ancora loro con Viviani, palla recuperata da parte nostra, ripartiamo, Ramires, facciamo vedere che anche noi siamo carichi e pronti per questa partita, palla troppo lunga però, anticipo di Udo Ghi per Radulovic, palla per Ramires, Ramires per Taliesmanio, che si allunga molto bene, e con il Mancino trova subito al 14esimo il gol dello 0-1. Al 14esimo un gol pesantissimo, loro erano partiti forti, ma noi abbiamo trovato la prima rete, gran bel gol, la messa praticamente all'angolino basso, bravissimo il nostro numero 9, sempre la connessione, Ramires e Taliesmanio, giocatori veramente insostituibili, bravissimo con il Mancino, e segna un altro gol pesante della sua stagione che in Italia ha dimostrato di poterci stare, ovviamente ancora è lunga, 0-1, però per ora saremmo in Serie A, la partita, ripeto, è lunghissima, non lunga. Rinvio di Sekulin, il pallone però è per noi, Fiordilino per Ramires, attenzione sono in un momento un po' fragile, incredibile, 0-2 al 21esimo, non ci sto credendo, che sta succedendo? Ancora Taliesmanio, il KO Verona dopo il gol del 1-0 è praticamente morto, si sono andati in blackout e troviamo un altro gol molto bello qua con il destro, quindi dimostra di essere bravo sia con il Mancino che con il destro, giocatore sicuramente di una categoria superiore, Taliesmanio, e qua Sekulin poteva fare forse qualcosina in più, però arriva un altro gol del nostro numero 9 su assist, indovinate di chi? Proprio di Ramires. E niente, 0-2 contro il KO Verona, tanta tanta roba, ovviamente non è ancora chiusa. Attenzione al KO Verona che sicuramente ora sta cercando di risvegliarsi, ma perde il pallone, ripartiamo quindi con Jonsen, subito per Ramires, Taliesmanio allarga per Radulovic, che però viene anticipato, ma perdono il pallone sulla riuscita ancora, c'è Radulovic, Radulovic prova a incrociare! 0-3 al 37esimo, che Venezia in questa gara di ritorno, a dimostrare che la Serie A la vogliamo e fuori casa portiamo 1-0-3 alla fine neanche del primo tempo, che è pesantissimo in ogni caso, ma in questo momento è un risultato che finalmente ci fa pensare che la Serie A è lì vicina, e bravissimo anche Radulovic, che è stato un giocatore importante in questa stagione. Bravi, 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 al 38esimo siamo già 0-3, ora al Chievo servono 4 gol, praticamente non dico impossibile, ma difficilissimo. Chievo Verona però non ha mollato, tiene il pallone Fabbro, allarga per Canotto, il numero 18, siamo alla fine del primo tempo, non dobbiamo subire gol in questo finale di primo tempo, ancora loro con Viviani, palla lì, attenzione, non facciamoli tirare, ma non commettiamo neanche falli stupidi, palla ancora lì, bravissimo il nostro difensore, la palla ancora lì, oh non sto capendo niente, non vedo niente, attenzione, bravissimo Mirante, mamma che parata sempre di Antonio Mirante, acquisto decisivo fatto a gennaio che ci sta regalando delle parate che valgono dei punti. Calcio d'angolo, Giaccherini, palla fuori per il numero 5, attenzione, in tuffo addirittura il nostro difensore, finisce il primo tempo, 0-3, ora andiamo con il secondo tempo, cerchiamo di controllare la partita, siamo a 45 minuti dalla Serie A, siamo a un 99,99% dalla Serie A. Puccerelli per il Chievo Verona, lo affronta Romagna e lo ferma molto bene, Jonsen per Alamalik, riparte Jonsen, siamo 4 contro 4, ora il Chievo Verona sicuramente si sbilancia davvero tanto, c'è Radulovic dall'altra parte, ma arriva in anticipo Mogos e poi Sekulin, palla lunga sempre per Puccerelli, esce Rakovic su di lui, non recupera il pallone, palla ancora lì per Mbaie, Mbaie, ah se l'è portata lì, facile per Mirante, Mbaie per Puccerelli, attenzione dall'altra parte per Canotto, è posizione regolare, arriva il gol dell'1-3, l'hanno, diciamo, riaperta, ripeto, servono altri tre gol per loro, hanno un quarto d'ora, diciamo, però un gol che potevamo evitare di subire, ci siamo trovati un po' impreparati, forse con la mente già verso la fine della partita, però qua potevamo a livello difensivo fare un po' meglio, due giocatori su uno, non si fa, niente, ormai manca poco, aspettiamo solo il fisco finale, però cerchiamo di mantenere almeno la rete, non dico inviolata, ma solo con un gol subito. Siamo all'89esimo, arrivano dei cambi sia per loro che per noi, arriva anche la standing ovation per Ramirez, che ha fatto un finale di stagione, ripeto, incredibile, anche questa partita è stata molto importante, è entrato anche Esposito in questi ultimi minuti, giusto per far fiatare appunto un po' la squadra, ma ormai è finita la partita, abbiamo portato a casa una gran bella bella vittoria, palla per Esposito, forse un'ultima occasione per noi, invece niente, l'arbitro fischia, la partita ormai era chiusa, finisce questa stagione, questa prima stagione con la vittoria dei playoff, vinciamo 3-1 questa gara di ritorno, in totale un 4-2, ci portiamo a casa il terzo e ultimo ticket pass per la Serie A, e quindi l'anno prossimo il Venezia sarà con le altre squadre in Serie A, Venezia con la maiuscola, festeggiare i nostri giocatori, io sono veramente estremato, è stato un episodio lunghissimo da registrare, ma sono molto contento di vedere, insomma, questo risultato, lo aspettavo, lo abbiamo voluto e l'abbiamo ottenuto, ora vedremo i nostri giocatori festeggiare e alzare al cielo questo trofeo, Fiordilino il capitano di questa seconda parte di stagione è pronto ad alzare il trofeo, facciamo finta che sia un altro trofeo, ma l'importante è che siamo in Serie A, festeggiamo, otteniamo, ripeto, l'accesso alla Serie A, io sono veramente, veramente, non dico estremato, però è stata veramente lunga come prima stagione, era comunque abbastanza scritto che passavamo, perché abbiamo una squadra che secondo me è pronta anche per giocarci, già attualmente senza il mercato, la salvezza in Serie A. Prima di chiudere con l'episodio però vi faccio vedere un po' anche la crescita dei nostri giocatori, ve li farò scorrere proprio in questo momento, abbiamo qualche giocatore che è cresciuto veramente tanto, sono molto contento anche perché comunque l'anno prossimo avremo la Serie A e avremo tutt'altri avversari, però i nostri giocatori si sono dimostrati molti pronti per la Serie A, ovviamente dovremo fare delle valutazioni, qualche sacrificio potrebbe arrivare anche per quanto riguarda la Serie A, perché comunque alcuni giocatori secondo me non sono proprio prontissimi, qualcuno potrebbe rimanere e mandare via in prestito, i soldi per ora non li avremo, scopriremo il nostro budget nel prossimo episodio. Mi raccomando consigliatemi i giocatori qua sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto iscrivetevi al canale che così ricevete sempre notifiche quando escono i video, supportate questa carriera, mi raccomando noi ci vediamo al prossimo episodio, vi ricordo con l'inizio della seconda stagione con il Venezia in Serie A. Grazie per aver visto il video fino a qua, noi ci vediamo alla prossima, un bacione da Yas, bella a tutti.